Amici bentornati sul canale Donato Shakey Blog. Allora ringrazio anche se sono poco e comunque per il sostegno delle visualizzazioni che mi date. Oggi faremo un unboxing di uno strumento chiamiamolo così che ho comprato su Amazon mi è arrivato mi sembra martedì se non erro e per i video e le foto o panoramiche insomma quello che è. Allora per prima cosa il mio nuovo compagno di viaggio per gli unboxing trincettino ovviamente ho comprato da Xin Chaolin vediamo se ce la faccio aprirlo senza far danni Puzza Allora anche te Vediamo un po'. Dovrebbe essere anche impermeabile. Allora si tratta diciamo di uno slide della Newer che io ho già anche diversi microfono condensatore qui ho già bellino ho già diversi oggetti mi trovo molto benissimo Allora dunque ricapitoliamo A queste filettature qui che presumo per attaccarci altre cose O non saprei comunque vedremo poi anche lateralmente In A2 uguali e anche frontalmente di qua e di là per poterlo mettere in verticale su cavalletti o quello che è C'è anche le zampine che si possono regolare Bellino. Nel suo complesso devo dire che è un bello Oggettino via Abbiamo già visto qualche unboxing di O simile E mettiamolo pari Così Vediamo un po' se ce la faccio Oh vai Top, top, veramente top Ora prendo il 18 di macchina fotografia Vediamo un po' A vita Vabbè mettiamolo così E quindi diciamo la funzione Sarebbe questa Veramente Sono veramente soddisfatto Grande acquisto Ora giustamente Tempo di sistemare qualcosina Si fa diciamo un test sul campo Che sono quelli lì poi Che Vediamo se Un oggetto ne vale veramente la pena Se è valido o meno A tra poco Allora amici Che dire È un bello oggettino Pensa un pochino Allora ho visto c'è Una vita è diversa Comunque Vabbè Mal di po' È un bello oggettino Il video di dimostrazione che ho fatto È proprio una cosina giusto per provarlo Comunque In questi giorni Tempo permettendo Esco fuori E faccio un video Diverso C'è un pacchettino Che davanti Vado a vedere E fa qualcosa E Niente Per ora Mol soddisfatto È bello stabile Perché Non so quanto peserà Comunque È un po' pesantino C'ha le zampine regolabili Sì Questi gommini laterali Questi qui Che danno Diciamo Chiamiamolo rinculo Per modo di Non so quanto resisteranno Comunque O una puntina di colla O All'obio All'abricco Si trovano Praticamente A vedere così Sembrerebbero I Paracolpe I sportellini Dell'IKEA Delle cucine A vedere così Comunque È bello fluido Sono Proprio soddisfatto Niente Della C'è una nuve C'ho anche Lo zainetto Microfono Poi da qualche parte O qualcos'altro Comunque In uno dei prossimi video Diciamo Si fa Faccio Una dimostrazione Vi faccio vedere La mia attrezzatura Non è niente di particolare Perché Questi video qui Li sto registrando Col cellulare Oppo A52 E posso fare Sia 4k Che 2k Mi sembra Li sto facendo In 2k Se non riorno male E per caso Do questo Mentre per le esterne C'ho Un action cam Con un gimbal Per fare i movimenti Che dà Un po' più di stabilità Niente Amici Grazie per la visione Mi raccomando Commentate Iscrivetevi al canale E smartellate Mi piace Un saluto Da me E dal trincettino Di Chinchaolin Ciao